3BlueData, grazie alla grande esperienza acquisita nella programmazione di gestionali basati su FileMaker e alla certificazione del prodotto, è azienda leader per quanto riguarda lo sviluppo di software personalizzati. Ecco un esempio delle potenzialità di FileMaker Go collegato ad un gestionale personalizzato tramite FileMaker Pro. Grazie a FileMaker Go installato su un normale smartphone, possiamo ad esempio collegare la lettura di un codice a barre effettuata tramite il dispositivo, con il database presente nel gestionale gestito con FileMaker Pro, in modo da richiamare velocemente un prodotto collegato al codice. Le possibilità di personalizzazione del vostro gestionale grazie a FileMaker Pro e FileMaker Go vi permetteranno di costruire un sistema di gestione perfettamente integrato con le vostre attività, sfruttando anche le grandi potenzialità dei dispositivi mobile. Scegli la flessibilità di un gestionale sviluppato con FileMaker intorno alle tue esigenze. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti